I controlli dei carabinieri della Compagnia di Vasto hanno interessato tutta la costa, dalla zona di Punta d'Erci fino a lungomare di Termoli alla Statale 16. Sotto la lente dei militari, coordinati dal Maggiore Amedeo Consales, furti con scasso le auto in sosta, in particolare turisti di passaggio. Una tecnica consolidata, finestrini sfondati per entrare e interni saccheggiati, a volte trovando anche delle carte di pagamento. Tra le vittime una coppia di bonefro che si trovava in spiaggia. Per questo episodio i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di tre persone residenti a Vasto, una coppia di 45 e 46 anni e un 52enne. Decisivi petinamente un arenoclio nera che si fermava più volte lungo le strade delle località di villeggiatura, ma anche l'acquisto di un cappellino in un negozio gestito da cinesi, che, stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe poi servito per nascondersi durante il tentativo di prelievo. Un copione notato in viale aperta allo sportello del credito cooperativo. I tre sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti. Dalla perquisizione sono spuntate due poste peri proprietà dei turisti che si trovavano al mare. Dai riscontri sono scattati gli arresti. Dopo la direttissima, la coppia resta ai domiciliari e l'uomo di 52 anni deve rispettare l'obbligo di firma. Il Maggiore Consales ha rivolto anche un invito non solo ai villeggianti. In questo caso abbiamo registrato, e purtroppo non è l'unico, che le carte di pagamento asportate a bordo dei veicoli diverse volte vengono lasciate, abbinate al PIN utile per porre l'incasso e monetizzare il furto. Quindi intanto evitare nel modo più assoluto di lasciare i numeri, i codici d'accesso delle carte per cercare di ostacolare e contenere comunque il danno.